ciao a tutti bentornati amici di bandit oggi sono qui perché vorrei parlarvi di un parliamo insomma di retro in questo caso voglio parlarvi della miga 1200 commodore amiga 1200 io ne posseggo una è stato è stato il mio primo computer e ho deciso di fare questo video per insomma parlare appunto di questo splendido computer all'epoca che fece tanto sognare gli appassionati dopo il successo del miga 500 poi c'era stato il 600 500 plus insomma c'era aveva avuto molto successo si era deciso di fare questa macchina la miga 1200 e qui parliamo dell'inizio degli anni 90 e appunto la commodore decise di fare questa macchina che presentava delle caratteristiche abbastanza interessanti parliamo di un periodo in cui c'era appunto la microsoft e computer da lavoro erano praticamente tutti i targati microsoft quando uscì invece questa macchina di cui parliamo oggi la miga 1200 presentava non fece col successo che aveva avuto il 500 e anche la serie 600 però fu un'ottima macchina che presentava delle caratteristiche molto interessanti per esempio il chipset aga e fu una delle prime macchine che venne usata con programmi grafici 3d tipo lightweight max on cinema e tanti altri programmi di grafici era il periodo che noi parliamo di una macchina che ha colori mentre a quei tempi il computer il personal computer era ancora monocromatico quindi c'era stato un salto completamente nel futuro con questa macchina e infatti c'era stato i giochi i giochi avevano erano già di tutto un altro livello io mi ricordo quando ero indeciso se acquistarlo o no molti me la consigliarono perché oltre a essere una macchina molto semplice da usare era robusta parliamo di sia come macchina che come anche software non aveva mai niente infatti funziona tuttora dopo più di vent'anni e con alcuni aggiornamenti tra cui poi adesso vi farò vedere tra cui alcuni potenziamenti che ho fatto tipo l'aumento della ram e l'inserimento di una scheda grafica acceleratrice io usai questo computer diversi anni parliamo insomma degli inizi degli anni 90 e potevo godere della grafica 3d di di allora dei giochi che c'erano loro che logicamente non adesso li guardi uno si mette a ridere però già allora l'amica presentò dei giochi che fecero molto successo ci furono dei giochi io mi ricordo tipo wing commander che fu davvero un grande successo una saga con dei giochi molto inter molto belli poi parliamo di sensible soccer per chi è appassionato di questo genere sa benissimo di che cosa sto parlando i primi fifa io ricordo i primi fifa io li giocavo nella miga 1200 e avevano già una grafica molto ma molto 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 bella e gradevole peccato che appunto con l'uscita di questa macchina era iniziato il declino della della commodore infatti da lì anche se ebbe abbastanza successo questa miga 1200 ci fu il declino tra cui il fallimento della commodore poi subentrarono delle altre ditte che rilevarono la commodore ma loro volta fallirono beh insomma fu praticamente una sfortuna nella sfortuna un sogno un sogno che io ricordo che ero un fan della miga un sogno che purtroppo finì finì male e peccato perché era una macchina che prometteva bene e sarebbe stato bellissimo se ci fosse stato un futuro uno sviluppo ma adesso andiamo a vedere la presentazione di questo miga 1200 mio possesso benissimo ma guardiamo allora vi faccio vedere adesso questa bellissima amica 1200 qui di fronte molto pesante pesa diciamo quanto un televisore quello di vecchio di una volta potete vedere il marchio commodore 1200 vedete qui adesso prima il colore originale era bianco se in giallita al furia di usarla qui parliamo di una macchina che è del questo computer del 94 quindi sono abbastanza abbastanza insomma diciamo che ne ha di anni però adesso vi faccio vedere la parte frontale allora parte frontale eccolo qui aveva tutti gli attacchi frontalmente tutti gli attacchi sono frontali c'è l'attacco per il mouse l'attacco per la scar che veniva collegato attacco per l'audio poi ci sono degli attacchi supplementari per il joystick il disco esterno a vista esterno una porta seriale che che veniva utilizzata per la stampante che veniva utilizzata per la stampante e tutti gli attacchi erano nella parte posteriore sotto è aperta perché c'è eccola qui adesso vi faccio vedere ok qui c'è una scheda acceleratrice blizzard acquistata dopo e l'ho inserita dopo e con questa scheda acceleratrice diciamo che si dava una vita in più a questa bellissima bellissima macchina questo questo computer in più sono state aggiunte delle ram adesso non mi ricordo quanta ram comunque era stata aggiunta persino della ram extra quindi scheda acceleratrice blizzard che costava già un oltre un milione solo la scheda acceleratrice parliamo di lire e in più c'era appunto la ram in più che costava un occhio della testa medi nelle filippine facevano questo questo computer infatti qui guardate un po' comunque era già insomma diciamo che era un ottima un ottimo computer si collegava al televisore e a colori e si vedevano i colori mentre quando è uscita diciamo che i computer erano monocromatici mentre questi erano già colori e in più l'audio era già abbastanza un ottimo audio e infatti poi c'era stato anche i giochi erano abbastanza buoni io ricordo che avevo tantissimi dischetti poi a quel tempo si compravano dischetti erano erano dire che si facevano facilmente le coppie e poi adesso vi faccio vedere c'era il suo questo è un lettore floppy esterno che era comodissimo magari e andava tutto floppy e questa macchina quando è uscita aveva un hard disk che era stato aggiunto extra di 100 mega era già un bel hard disk costava già un mucchio di soldi mentre appunto non vi ho fatto vedere prima ecco dove aveva dove si inseriva il floppy nella parte a destra è molto pesante questa macchina qui era veramente pesantissima una macchina che adesso solo solo muoverla c'è da pesa come il cristo comunque era già un ottimo un'ottima macchina se voi guardate bene aveva già insomma praticamente la tastiera impostata come quelle moderne di adesso il design era un design molto piacevole tutto compatto si collegava alla televisione il mouse e si faceva di tutto si potevano con questa macchina qui si utilizzavano dei programmi grafici tipo lightweight 3d max masson cinema io ricordo diversi programmi grafici che utilizzavo e in più si facevano si poteva giocare c'erano tantissimi giochi tra l'altro mi sembra che ho qui qualcosa ne ho una marea poi vi farò vedere anche io che mi piaceva tantissimo era questo simon che era molto bello che c'è il suo manuale e c'erano già insomma delle delle ottime macchine i floppy per esempio questi si giocava tutto qui fu con questi floppy qui si compravano insomma poi c'erano nelle riviste qui queste sono dischetti di riviste insomma c'era un po di tutto io ne ho talmente tanti che non so più dove metterli è tutto ok questo era il mio amica 1200 che posso che ho da oltre vent'anni adesso poi prossimamente quando lo collegherò preparerò per farvi vedere alcuni giochi e devo organizzarmi perché devo collegarla al televisore devo fare in modo che posso posso fare delle riprese e vi farò vedere alcuni giochi che andavano forte in quel periodo durante appunto gli inizi anni 90 questo è tutto vi ringrazio spero che l'argomento vi sia piaciuto io tornerò poi a parlare magari di questo genere retro magari games retro punto computer retro in altre puntate saluto tutti i miei amici e vi do appuntamento alla prossima ciao ciao